Misurare in una clean room con testo 400 Lo strumento multifunzione testo 400 è ideale per le clean room. Iniziamo con la misura della pressione differenziale in conformità con la norma ISO 14644 parte 3 tra la zona di decontaminazione e la clean room per verificare la caduta di pressione differenziale. Colleghiamo il tubo di pressione a testo 400. Lo facciamo passare sotto la porta fino alla zona di decontaminazione e iniziamo a misurare la pressione differenziale. La caduta di pressione, idealmente tra 5 e 20 pascal, evita una contaminazione tra le stanze, controllando il flusso di particelle in uscita dalla clean room. Misuriamo adesso la portata in un banco di lavoro, secondo la norma IN 12469, per garantirne la funzionalità. Utilizziamo quindi la sonda per cappe aspiranti, collegata a un piccolo treppiede. Misuriamo su 8 diversi punti per 60 secondi l'uno, per stabilire il flusso di aspirazione medio nel banco di lavoro. Adesso misuriamo la portata dell'aria in ingresso dal filtro su soffitto, in conformità con la norma. Dopodiché, misuriamo temperatura e umidità nella clean room. Utilizziamo la sonda egrometrica ad alta precisione e il treppiede per misurare all'altezza di 1 metro e 10 centimetri, stabilita dalla norma, per più di un'ora, con intervalli di misura di un minuto. Eseguiamo questa misura su due punti diversi nella clean room per identificare eventuali irregolarità. Testo 400 consente di creare velocemente report di misura digitali, con tutte le principali informazioni. I report possono essere inviati in PDF in tempo reale via e-mail.